Oggi abbiamo avuto la dimostrazione che la maggioranza dei gruppi consigliari è sostanzialmente per il ritorno in presenza. Non c'è nessun motivo per continuare a lavorare da remoto. Inoltre l'addendum al regolamento che ci hanno proposto presenta veramente degli aspetti che non sono accettabili dal nostro punto di vista. Ci sono tantissimi poteri ad esempio alla presidenza e ci sono tutta una serie di norme che prevederebbero sostanzialmente di istituzionalizzare il consiglio da remoto. E con noi questo ci opponiamo in maniera forte. Il consiglio comunale deve tornare a svolgersi in presenza. Non ci sono più scuse. I consiglieri non hanno intenzione di continuare con la modalità telematica. Il prefetto già nel mese di giugno ci aveva invitato a ritornare in presenza in maniera molto garbata e diplomatica. Ma nel frattempo ne abbiamo anche preso conoscenza di una circolare al Ministero dell'Interno che definisce chiaramente il perimetro di quelle che possono essere le eccezioni una volta finita l'emergenza Covid per continuare a lavorare a distanza serve un regolamento adottato al Consiglio Comunale. Noi intendiamo a questo punto insieme con altri gruppi consigliari scrivere al prefetto chiedendo un suo autorevole intervento anche alla luce di questa circolare al Ministero dell'Interno che era stata inviata a tutti i prefetti e a Lanci. È molto singolare questa situazione ed è quello che abbiamo chiesto a gran voce da mesi. Noi speriamo che in questo momento anche attraverso questa nostra richiesta al prefetto di un'ulteriore spinta verso il ritorno in presenza ci sia effettivamente la risoluzione del problema. Non c'è più motivo evidenziano i consiglieri di non svolgere il Consiglio Comunale in presenza anche per poter tornare a coinvolgere i cittadini. Il ritorno in presenza permette anche al pubblico effettivamente di continuare ad assistere dei visu alle sedute del Consiglio come è sempre stato a Venezia che è una tradizione molto radicata e molto sentita in questo senso.